Buongiorno, buongiorno Top Planet, Top Land, abita bianco e nero. Ciao Marcello, ciao Delio. Sì, riecco il vostro doge, non potevo mancare. Sì, ormai ci siamo, ci siamo, siamo nell'attesa, nel giorno più lungo, per questa attesissima finale di Champions, perché noi aspettiamo questa Coppa da 21 anni, portiamola a casa ragazzi, portiamola a casa. Ormai, siamo arrivati fin qui, io me la sento, è l'anno giusto, portarla a casa. Io mi sbilancio, dico, bella 3 a 0, tipo Barcellona, e facciamo esplodere la gioia, e facciamo esplodere la gioia. bianco e nera. Domani sera, se tutto va come deve andare, si sarà la paldoria bianco e nera, esploderà la paldoria bianco e nera. Andiamoci a conquistare questa Coppa, questo Coppone, e andiamo a fare la tripletta. Andiamo a fare la tripletta. A presto, andiamo a fare la pausa. Abbiamo, andiamo, 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 andiamo. Vamos, Juve